...elettorale, intanto vi mostro la foto a cui faceva riferimento prima Laura Ravetto, la foto di Renzi, del premier italiano, in aereo lo vedete, eccola qua, che al telefono parla con Trump, si congratula col neopresidente, ecco così, perché c'era il riferimento, magari qualcuno non l'ha vista, questa è la foto che c'è di Renzi che parla con Trump. Ma non capisco, non doveva chiamarlo? No, non doveva far pubblicare la foto, il problema è pubblicare la foto, ma dai, si sa che si chiama, devi far vedere che stai al telefono, fai pubblicare dal suo portavoce la foto, come a dire, io non sono nessuno, guardate però riesco a parlare con il Presidente di Zanetti, no, scusi, scusi onorevole Ravetto, scusi, scusi onorevole Ravetto, sta parlando del Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, non è che sta parlando di un passante, sta parlando di un Presidente della Repubblica Italiana, del Presidente del Consiglio, che naturalmente su un fronte progressista magari si augurava, come tanti di noi, una vittoria di segno diverso, ma che per rispetto al proprio Paese, e per, mi scusi però, io capisco che lei è lontana, però io non l'ho mai interrotta, mi faccia dire, allora non capisco l'ilarità di questa vicenda, il Presidente del Consiglio ha chiamato, c'è una foto dove sta al telefono, parlando e congratulandosi con chi ha vinto, per dire che l'Italia e gli Stati Uniti, non so se lei la pensa così, dovranno continuare non solo a collaborare, ma a lavorare insieme, e credo che questo sia un messaggio per tutti, anche per lei. No, però deve essere un tweet, perché io devo chiedere delle cose che secondo me ci aiutano a ragionare a parlare. Sta solo intelligente, penso abbia capito che cosa dicevo, si figuri se posso essere contrario che Presidente del Consiglio chiami Presidente degli Stati Uniti, ma chi è contrario? Trovo grottesco, un po' ridicolo, postare la foto della telefonata perché è un messaggio che vuol dire, vedete, io riesco a parlare con il Presidente degli Stati Uniti. Ma meno male, ma questo sarebbe valso anche per un altro Presidente del Consiglio. Però lei dice nell'interruzione, ora io penso che il Presidente dell'Italia sia chiaro che può parlare con il Presidente degli Stati Uniti come tutti, sia chiaro che lo chiama per congratularsi, ma farne oggetto di vanto secondo me è un segnale di debolezza. E come dire, vedete, ce la faccio, ce la faccio. Allora, vi rompiamo un attimo la cherella, andiamo da massimo.